segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tu l'hai vissuto in prima persona credo fosse il 2013 no quando sei stato rapito in siria 100 giorni ricordo male 156 156 come si torna alla vita normale e abbiamo visto allestire ospedale pronto un'equipe psichiatrica qual è la cosa che serve di più sicuro l'assistenza psichiatrica una cretinata totale una cosa che non serve a nulla uno psichiatra non può sapere cosa attraverso una persona che ha attraversato la morte ne ha sentito la densità ed è rivissuto queste sono chiacchiere quelle del supporto psicologico e persino brutta la parola supporto psicologico nessuno è più solo di uno che è stato ostaggio e quello che gli serve è toccare la vita nella sua semplicità più assoluta aprire una porta guardare fuori dalla finestra bere un bicchiere d'acqua guardare la televisione leggere un libro fare una passeggiata altro che la struttura psicologica queste persone hanno sono morte e oggi rivivono possono raccontarvi la morte altro che il colloquio con lo psichiatra questa la domanda che mi ha fatto io le rispondo così no no si